Accusati di estorsione, assolti il deputato Genuso e il padre. Il fatto non sussiste. La quinta sezione del Tribunale di Palermo ha assolto il deputato Riccardo Genuso perché il fatto non sussiste dall'accusa di estorsione. La Procura aveva chiesto la condanna del parlamentare di Forza Italia a sette anni di carcere. Assolti anche il padre Giuseppe, ex deputato regionale. La richiesta per lui era di sei anni e otto mesi. Leonardo Burgio e i PM avevano chiesto sei anni e quattro mesi e Antonino Bignardelli per cui erano state richieste sei anni e cinque mesi. Per Burgio e Bignardelli il Tribunale ha dichiarato prescritta una ipotesi di truffa. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Claudio Gallina Montana e Mario Fiaccaveni. Il caso ruota attorno a una estorsione subita da due dipendenti della Sala Bingo nel rione di Guadagna di Palermo gestita e genuso dal 2015. A denunciare il parlamentare, il padre Burgio, socio della precedente gestione, e il sindacalista Bignardelli sono state tre ex dipendenti che sarebbero stati costretti a firmare una transazione con la quale rinunciavano a due terzi dei soldi della liquidazione. Se non avessero firmato i lavoratori avrebbero subito la riduzione dell'orario di lavoro da nove a tre ore al giorno con una considerevole perdita economica. La Sala Bingo è la stessa per la quale l'onorevole in passato denunciò di avere subito richieste estorsive. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha commentato la soluzione del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Giannuso rappresenta un'importante vittoria della verità e della giustizia restituendo dignità e serenità a lui e alla sua famiglia dopo anni di accusa che sono rivelate infondate. La decisione del tribunale di Palermo non solo riporta tranquillità nella vita personale e pubblica dell'onorevole Giannuso e tra gli altri anche del padre Giuseppe pure lui assolto ma rappresenta anche una riaffermazione della fiducia nel sistema giudiziario che ha saputo fare chiarezza e rendere giustizia in una vicenda così complessa. Grazie a tutti.